Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di Toxigamer88 Oggi siamo qui con un nuovo titolo con Point Blank Mi è stato consigliato da Kiro666 di cui posterò il link in descrizione E quindi iniziamo subito, facciamo un inizio veloce Vediamo cosa esce, vabbè Deathmatch mappa Premessa che non sono abbastanza pratico di questo titolo Diciamo che ci sto giochicchiando adesso, no vabbè Questa mappa veramente fa pena Quindi troviamo una missione esplosiva, missione a squadre Vabbè proviamo questo di qui Entra e già siamo in battaglia, sarà un video abbastanza breve Vediamo cosa ne esce Quindi non vi aspettatevi proaggini Lo sto provicchiando per vedere come va Ok Ok cominciamo Andiamo a caccia di cattivoni di turno Signorino un attimo Uh troppo spazio Farò soltanto qualche partitozza così casuale Premi 9 Cazzo E vai così Se l'ininterrotta Uh E siamo morti Vai così Cominciamo benissimo questo Tra virgolette Nuovo gameplay Saranno delle partite random Ma almeno ragazzi spezziamo un po' Ogni volta sempre Dark Souls Fear Giochi seri Per una volta mi voglio Divertire un pochettino Vai fatevi sotto Vai così Granate a random Farò anche dei gameplay su Combat Arms Peccato per Il fattore risoluzione Che ha 1680 Una cosa del genere Non ricordo Allora Qui c'è nessuno C'è qualcuno Che cazzo è successo Ecco Lì c'è la mappa Non l'ho vista Dettagli Ragazzi Non fate caso al modo in cui gioco Perché Veramente Faccio pena E' la prima volta che lo provo Quindi lo sto provando Insieme a voi Quindi non mandatemi Mese del tipe Tu non sai giocare Non sei un po' Dove era? Ho visto qualcuno Per passare una serata diversa Va bene Sì però non è possibile Vabbè Gli altri hanno armi super potenti Io per ora Sto giochicchiando Quindi L'importante è questo Va bene Adesso Proviamo a fare Qualcosa di meglio Proviamo a fare qualcosa di meglio E mi hanno lanciato una grana Vabbè Questo sarà un video Veramente strano Perché Mi vedrete morire Miliardi di volte E poi vi chiederete Sì ma Dark Souls Sei bravo E poi arrivi qui E perdi Beh ragazzi Dark Souls Ci ho speso le ore Vabbè Ricarichiamo Vediamo se troviamo Qualche signorina Da ammazzare Lancia la grana Cioè con Dual mini Cioè Gli è bastato un colpo Per Quasciottarmi Io ho fatto soltanto Una kill E vabbè Fatemi sapere Se questi Giochi random Queste partite Vi piacciono Così almeno Ne farò di più Almeno Miglioro Insieme a voi Cioè Gli ho scaricato Un caricatore Intero E non moriva Chissà come mai Guarda il camper Dove siete? Ok Doppia kill Va bene Cominciamo a ingranare Io ho giocato A combat arms Un pochettino Si trova Io gli scarico Veramente Mille Mille Colpi Se avete consigli Datemi Di tanto Farò video Abbastanza brevi Tipo Una partita Un video Così L'importante È giochi Una partita Se dura mezz'ora Saranno video Della lunghezza Dei 10 Ai 15 Minuti Però Non di più Ragazzi Altrimenti Impiegherei Veramente Troppe ore A caricare Tutto Adesso Non so Dove sto andando Però L'importante È andarci Lì c'è uno Doppia kill Ragazzi C'erano due Camperoni Che cercavano Di Camperare Ed è sbagliato Ragazzi Non si camper Non si camper Io posso essere Scarso quanto volete Però se vi becco Vi aro Ok Andiamo qui Le granate Ci Sì ce le ho Headshot Molevi Vediamo se qui Troviamo qualche altro Camper No C'è questa di qui Con questi dual Mini usi Che mi sta rompendo Veramente i coglioni Però vabbè Dettagli Non sono il tipo Che comincia A sclerare Almeno Quando registro Se mi vedete Quando Se mi vedesse Quando registro Quando non registro Cazzo Pure l'italiano Porca putt Uh Granata Ok Quindi c'è qualcuno Lì Ok Quindi siamo morti Bellissimo C'è Qui tutti hanno Armi Superpower Arrivo io Con il mezzo Trozzo Iniziale Ci sono con le armi Iniziali ragazzi Questo è un saltatore Questa è un'arma iniziale Però Per passare 5 minuti 10 minuti in compagnia Va benissimo Però non ho settato Nemmeno il timer Sì ma non è possibile Cioè io scarico Mille mila colpi Arrivano loro E tipo Mi disintegrano E vabbè Allora dobbiamo giocare Di astuzia Forse Vediamo Vediamo Il vantaggio Di questi gameplay È che sono Belli movimentati Però Cioè Sì Di nuovo Di nuovo Cioè è rotto il cazzo Però Ok Manteniamo la calma Perché è la mia Prima partita Ufficiale Di nuovo Cioè ma non è possibile Cioè di davanti Di davanti Vaffanculo Testa di cazzo Adesso sarà qualcuno Che ci spende Soldi Ma Non mi interessa Non ho una granata Ah Finita Vabbè Abbiamo vinto Però vabbè Io sono entrato dopo Ok Usciamo E terminiamo Questo breve video Più che altro Per farvi vedere Com'è il gioco In sé È abbastanza frenetico A me piacciono Questi titoli Anche se Non ci dedico tanto Perché non ci voglio Perdere vita sociale Allora Ricompensa 300 punti Vede Significa Quindi ragazzi Termino qui Questo video Fatemi sapere Cosa ne pensate Io continuerò A farli Naturalmente Per passatempo Così almeno Ci divertiamo Un pochettino In compagnia Se poi mi volete Aggiungere Il nome Non so come si fa Quindi fatemelo sapere voi Fatemi sapere tutto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti